... Avrebbe compiuto oggi 100 anni la signora Rosa, la mamma di Silvio Berlusconi, una persona forte e amata da tutti che oggi i familiari ricordano con grande affetto. Avrebbe compiuto 100 anni se tre anni fa una brutta polmonite non avesse compromesso irrimediabilmente un fisico già fortemente provato. Cade oggi l'anniversario di compleanno della signora Rosa Bossi Berlusconi. A ricordarla funzioni religiose volute dalla famiglia e dagli amici, la signora Rosa era nata a Milano il 25 gennaio del 1911. A soli 14 anni aveva perso la madre, aveva dovuto acudire da sola il papà e i giovani fratelli. Segretaria alla Pirelli amava raccontare con lo sguardo dolce e pulito, solo ai più vicini, l'incontro che le aveva cambiato la vita in una fredda mattina milanese alla fermata del tram quando aveva incontrato il suo Gino, come amava chiamare il marito Luigi Berlusconi. Un carattere forte e deciso, innamorato della libertà che l'aveva sostenuta durante l'occupazione nazifascista e nel quale, un giorno in treno di ritorno da Varese, si ribellò a rischio della vita ad un soldato tedesco che voleva catturare una giovane donna ebrea. Una vita di duro lavoro e sacrifici per fare crescere i tre figli, dei quali andava orgogliosissima, Silvio, Maria Antonietta e Paolo, erano la sua realizzazione. Era stata lei stessa a convincere il maggiore, Silvio, a lanciarsi nell'arena politica. Attenta alla famiglia, onestà, rispetto e libertà, i principi fondamentali che ne hanno sempre caratterizzato l'esistenza.